come togliere il potere allo sfidante. E la domanda per esteso è sto continuando a rileggere Eckhart Tolle ti chiederai la cortesia di riprendere concetti fondanti come lo sfidante, di come si affronta per depotenziarlo. Dunque, lo sfidante è una... ha un bel film documentare di YouTube che consiglio nel corso del Come Meditare Coaching ormai è un po' datato ma è datato nel senso che è un evergreen nel senso che non risente del tempo però insomma è online da parecchi anni ma è sempre valido. E lo sfidante è la sfida che abbiamo nell'attraversare gli ostacoli che in qualche modo la vita ci frappone. parlavamo prima di karma di ostacoli di buchi nel marciapiede che cosa sono questi ostacoli? Che cosa sono questi... che cos'è questo sfidante? È una sfida continua a cui la vita ci obbliga. possiamo anche chiamarla qualche volta come il male il dolore la sofferenza ma noi cresciamo attraverso di essa una vita tutta liscia non esiste una vita chi di noi non so non ha sofferto almeno una volta la sofferenza è parte integrante di questa vita ma è quello che ci forgia è quello che ci permette di evolvere proprio come nell'esempio della buca del marciapiede noi cadiamo tante volte nella stessa buca ma ogni volta impariamo qualcosa di diverso fino a sradicare quel problema alla radice e non avere più bisogno di ricapitare con la stessa lezione però ogni volta che noi cadiamo in quella buca noi soffriamo ogni volta che cadiamo in un'esperienza dolorosa noi soffriamo la sofferenza è comunque soggettiva ho appena detto che ce l'abbiamo tutti ed è vero ma è soggettiva l'evento che causa la sofferenza è di per sé neutro questo lo si dice anche in psicologia c'è un elemento stressante chiamato stressor e poi c'è una risposta a questo stressor che può essere positiva o negativa perché di per sé lo stressor è uno stimolo un'esposizione troppo lunga a questo stimolo senza aver dato una risposta adeguata a questo stimolo è motivo di stress negativo che si chiama di stress quando noi parliamo di stress spesso intendiamo quindi lo stress negativo ma ha un nome diverso si chiama appunto di stress perché invece se noi siamo in grado a uno stimolo esterno di dare una risposta immediata costruttiva positiva usciamo ci obbliga a uscire dalla nostra zona di comfort e ci insegna qualcosa di nuovo e a quel punto questo stressor si è trasformato in noi in eustress che è una risposta positiva di fatto diventa uno stimolo lo stimolo abbiamo detto è neutro la risposta positiva allo stimolo è stato fonte di stimolo ci ha reso vivi ci ha fatto imparare qualcosa e abbiamo cambiato la nostra zona di comfort che si è allargata e abbiamo imparato qualcosa in più non siamo più quelli di prima ma siamo quelli di prima con in più un'esperienza positiva in aggiunta c'è una bella storia di Buddha una parabola di Buddha chiamiamola così che è la storia delle due tigri che è questa c'è un uomo che a un certo punto viene inseguito da una tigra e quindi comincia a correre corre, 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 corre e la tigra è sempre dietro arriva a un certo punto che c'è un precipizio un burrone e si accorre non può più andare avanti perché dietro c'è sempre la tigre che lo sta inseguendo e quindi si guarda giù e vede che sotto c'è un'altra tigre ad aspettarlo una tigre si sta avvicinando un'altra è pronta a riceverlo e lui allora che fa? si cala sul dirupo reggendosi una radice questa radice a cui lui si appende viene rosicchiata da due topolini uno bianco uno nero e quindi presto questa radice non lo potrà più sostenere sopra sempre la tigre sotto sempre l'altra tigre mentre sta lì in quella situazione poco avanti vede una piantina di fragole ne coglie una la mette in bocca ed è buonissima ecco questa parabola di Buddha mi diverte perché quando studiai counseling appunto avevo il mio libro sullo stress e cominciavo proprio con questa parabola per evidenziare come anche le circostanze più nefaste della vita alla fine possono essere colte con disperazione o con opportunità a proposito di opportunità mi pare che di ricordare che l'ideogramma mi pare cinese per opportunità fosse avesse anche una valenza negativa quindi sempre a confermare che la sofferenza la difficoltà lo stress ha due medaglie è come una medaglia che ha due rovesci uno positivo e uno negativo e sta un pochino noi riuscire a reagire o ad agire in modo costruttivo se ti è piaciuto il video lascia un bel like e soprattutto lascia un commento col tuo parere il tuo parere è ricchente per me e anche per altri che possono leggere e commentare